eccoci qua ciao a tutti e benvenuti nel trick di questo mese affronteremo un argomento un pochettino particolare che è il trattamento della voce in ambito diciamo edm come si dice quindi musica elettronica dalla techno alla house a un certo tipo di pop insomma la questione è questa non è tanto il genere che sta attorno alla nostra traccia vocale quanto il fatto che molto spesso in questo genere di musica sicuramente chi di voi è abituato a trattarla io non sono certo fra questi nel senso che mi capitano ogni tanto tracce di questo tipo ogni tanto mix o tracce di questo tipo ma normalmente mi occupo di altro però nonostante abbia una casistica ridotta in questo genere comunque fra il totale dei mix che ho fatto insomma mi è capitato spesso di ricevere tracce già processate tra virgolette finite e questo ovviamente può essere un'arma a doppio taglio nel senso che se sono perfette sono perfette non c'è nulla da fare non c'è nessun tutorial da fare si alza il fede del volume la traccia a posto molto spesso però si innescano tutta una serie di problemi e quindi ci troviamo ad affrontare il mix della traccia vocale con un approccio completamente diverso rispetto all'ambito dove io lavoro il 99,99 per cento dei casi che è il pop rock in cui la traccia è stata registrata microfonata magari il fonico ha aggiunto un pizzico di compressione un pizzico di equalizzazione ma fondamentalmente si parte da una traccia più o meno nuda e cruda e da lì si fa tutto il processing allora io vi faccio sentire subito disabilito i plugin ho messo e disabilito anche l'automazione di cui poi parleremo allora questa è una porzione di strofa della traccia vocale così come è arrivata così come mi è arrivata allora non mi piace molto ma facciamo qualche osservazione insieme un pochettino più precisa beh ovviamente la traccia è stata sicuramente pesantemente compressa probabilmente equalizzata non sappiamo come quanto ascoltandola così la sensazione è quella ed è stata effettata sono riverberi ci sono delay e se ascoltate in questo punto vedete che si chiude la traccia vocale e si sente solo e si sente solo la coda del riverbo corrego non c'è delay mi sembra solo riverbero comunque non cambia la questione quindi fondamentalmente è già stato fatto tutto perché insomma una volta che comprimete equalizzate riverberate o aggiungete delay che volete ripulite i punti ripeto come in questo caso si sente chiaramente che a fine sillaba è stata chiusa la traccia quindi è stata tagliata banalmente è stato pulito il silenzio in teoria è già stato fatto praticamente tutto quello che normalmente si fa quando si procede nel mixaggio di una traccia vocale io dico sempre normalmente perché non ci sono ricette prestampate preset template già fatti e così via ogni caso purtroppo io dico anche per fortuna è sempre una cosa un po' a sé però diciamo che le procedure standard onestamente non prendiamoci in giro più o meno sono quelli tool fondamentali sono quelli che si utilizzano sulle varie tracce quindi anche sulla voce detto questo però il processing che è stato fatto ha creato dei problemi allora la prima considerazione che salta ovviamente di più di tutte all'orecchio ed è veramente brutta e fastidiosa è che la quantità di compressione che è stata applicata mostruosa probabilmente ha completamente capovolto la dinamica quindi se io parlo tenete presente che adesso sto parlando dentro un compressore io sto parlando dentro un compressore vedete che è in funzione ok scusatemi in funzione del del volume che io do lui chiaramente vabbè ma non sto ad insegnarvi come funziona un compressore ci mancherebbe lo sapete meglio di me lui di conseguenza comprime in questo caso la traccia vocale è stata compressa talmente tanto che è stato abbassato il volume medio della traccia vocale effettiva e è uscito in termini di volume quindi di dinamica dell'intera traccia sono usciti ad un volume più alto di delle parole vere e proprie i respiri le consonanti le consonanti fastidiose le sibilanti e così via sentite questo respiro è come se fosse paribiri di da come se fosse saltato di volume più in alto rispetto a quello che immagino tutti noi vorremmo sentire sul disco cioè le parole non i respiri non le s o le f troppo forti scusatemi e così via quindi ritornando alla nostra traccia vi faccio sentire tutto il frammento sentite la s di sorry allora ci sono diverse cose da dire qua nel senso che sicuramente l'imputato principale è il compressore un uso eccessivo probabilmente del compressore probabilmente qualche compressore un cattivello dicevo qualche compressore un pochettino cattivello tipo magari anche un distressor perché no una roba del genere comunque qualche compressore molto aggressivo molto veloce e molto chiaro ha prodotto questa cosa qui e ovviamente avremmo dovuto ascoltare anche la traccia di partenza magari la scelta del microfono e del preamplificatore può darsi che abbia contribuito già in partenza a creare diciamo questo problema che poi è stato acutizzato dal che poi è stato enfatizzato dal compressore stesso quindi in realtà si va sempre un po di immaginazione su quello che potrebbe essere il problema però la verità è che per noi fonici di mix non è importante qual è stato il problema noi dobbiamo semplicemente cercare una soluzione se fossimo in studio a fare una produzione allora ragioneremo in maniera diversa partendo dall'inizio quindi dalle prese ma in questo caso la traccia è finita questa deve finire sul disco questa traccia deve andare sul disco e quindi di conseguenza dobbiamo intervenire faccio l'elenco dei problemi poi vediamo le soluzioni questo è il primo problema quindi uno sbilanciamento a favore diciamo della sporcizia nella nostra traccia vocale la seconda cosa e qui ragionevolmente sono ragionevolmente convinto che dipenda dalla scelta del microfono adesso non voglio citare una marca di microfoni molto famosa che chi mi conosce sa che non è che non sopporto la odio proprio non voglio fare pubblicità al contrario in questo video comunque mi viene subito in mente una certa marca di microfoni molto famosa ma ad ogni modo la questione è questa nel senso che ci sono alcuni microfoni che tendono con tutto il discorso di dare più presenza alla traccia vocale che poi buca in mix eccetera eccetera che è sempre tutto vero o no molto relativo sempre da valutare di voce in voce però in questo caso hanno veramente indurito e appuntito le frequenze medie che se ascoltate questa traccia adesso ve la rimando la state ascoltando flat ripeto c'è nel senso come a noi è arrivata quindi il nostro flat anche se già sta processata sentite come quella zona fra i 200 scusatemi i 1500 i 2000 i 2005 diciamo attorno ai 2 kilohertz è veramente appuntita fastidiosa da questa parte vi accendo un equalizzatore anzi questo lasciamolo da parte che è già presentato stiamo parlando di questa cosa qui io adesso chiaramente l'ho enfatizzata per farvela sentire guardate 2002 la zona è quella quando si sente quel fatto allora quando sento quel fastidio quel suono un appuntito che mi fa un po' radiolina sulle voci è quasi sempre attorno ai 2 kilohertz più o meno il punto fastidioso è quello e questo quindi per quanto mi riguarda ovviamente poi ogni fonico di mix ovviamente ha le sue orecchie sente delle cose che lo infastidiscono e di conseguenza interviene su quelle magari un'altra persona dice no per me è fantastico così il timbro benissimo io ovviamente qui vi sto sottolineando quelli che per me sono i problemi e quelli che io non vi dico che andrei a risolvere ma vi dico che sono andato a risolvere perché in questo caso nel caso di questo tutorial diciamo per sveltire la procedura e non fare un video di due ore ho importato direttamente dalla sessione di mix in cui ho mixato il brano ho importato direttamente la traccia esattamente con le curve di equalizzazione esattamente come l'ho io ho usato un paio di equalizzatori perché sono automatizzati in alcuni versi se ne accende un in altri versi se ne accende un altro i miei di esser però fondamentalmente è tutto esattamente come come io l'ho impostato in mix quindi ritornando a noi i due problemi che noi incontriamo e sono dovuti a un eccesso di processo in vocale di questa traccia soprattutto per quanto riguarda la compressione e come vi dicevo io penso anche per una scelta secondo me non ottimale per questa cantante di 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 microfono di preamplificatore ci troviamo con una dinamica completamente sbilanciata a favore dello sporco purtroppo e di tutti i rumori vocali e un suono che timbricamente non è proprio la la cosa più bella del mondo ecco secondo me quindi in questo caso io ho praticamente abbandonato beh innanzitutto mai mi sognerei di comprimere questa traccia anzi devo far sembrare che sia meno compressa di come mi è arrivata in mix o quantomeno quello che io a mio gusto desidererei fare quindi vedete che negli insert della mia traccia ovviamente quella gialla vabbè a parte un v meter che utilizzo per monitorare il voltaggio in ingresso ma questa è un'altra questione ho un paio di equalizzatori in cui non ho fatto molto vedete ho alleggerito leggermente parliamo di 0.4 decibel quindi quasi nulla ho alleggerito leggermente sulle medio basse e ho bustato un pochettino di aria in alto che qui parliamo di 0.7 quindi potrei dire che non ho fatto quasi nulla di equalizzazione è proprio una finalizzazione della traccia questo per dirvi che di compressori neanche l'ombra e gli equalizzatori che ci sono praticamente non stanno facendo niente i due problemi io li ho risolti il primo nella maniera un pochettino più lunga ma più semplice del mondo facendo un'automazione vedete la curva di automazione la riaccendo la metto in rinte di tutti i punti in cui c'è il compressore che dovrebbe aiutarmi in questo caso mi ha complicato la vita perché avendomi sbilanciato la dinamica della traccia a questo punto mi costringe in manuale ad andare a levare tutti i respiri fastidiosi tutte le esse fastidiose eccetera 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 quindi sentite la traccia vera rimando originale sentitela sentite questo frammento senza automazione allora onestamente ci sono fonici molto più bravi di me che fanno questa operazione in maniera molto più aggressiva di come l'ho fatta io ovviamente il quanto attenuare io l'unico consiglio che vi do beh molto banalmente attenuate a vostro gusto quanto ritenete opportuno non c'è una ricetta una quantità di db un giusto uno sbagliato è solo una questione di gusto chiaramente l'unico consiglio che io vi do è fatelo ovviamente magari lo abbozzate con la traccia in solo dopodiché decidete quanto tirare su e giù queste cose qui con tutta la base che suona quindi finalizzate la vostra automazione con la base nel senso che quello che a me piace è non perdere completamente se no deumanizzate la voce i respiri se vanno troppo bassi se scendono troppo di volume la voce sembra troppo artefatta a me piace che si sentano ma nella misura che che secondo me è corretta quindi io li ho abbassati stiamo parlando di meno 6 db in questo caso meno 8 db in questo caso e così via quindi una quantità consistente di riduzione di volume ovviamente potete abbassare anziché di 6 di 12 db se preferite quello poi sperimentate fatelo a vostro gusto io chiaramente come vi dicevo questa è esattamente come l'ho fatta in mix quindi secondo me la quantità giusta per stare e per permettere a questa voce di stare in mix durante la canzone quindi il problema del ribaltamento della dinamica secondo me può essere risolto fondamentalmente solo in maniera efficace solo con un'automazione di volume e questa diciamo che è la parte più intuitiva come 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 modus operandi per quanto riguarda il discorso timbrico della voce beh io vedete che gli unici plugin diciamo di processing visto che come vi dicevo questo equalizzatore fa tra poco il nulla giusto per dare un pizzico di luce in più in al di aria in più in alto il gli unici due plugin che effettivamente intervengono in maniera fra l'altro anche abbastanza pesante sulla traccia sono un paio di ds allora vedete che sono lo stesso plugin ve li apro tutti e due ok mettiamo qua allora che cosa succede noi abbiamo se riesco ok noi abbiamo due ds puntati su due frequenze diverse questo in alto è quello più tradizionale su cui non spenderai molte parole nel senso che ha fatto per attenuare leggermente le sibilanti in questo caso l'ho messo 8 kHz poi di voce in voce si sceglie la frequenza ottimale vedete che faccio in modo che intervenga anche non solo sulle s chiaramente ma questo mi piace anche sulle consonanti un po più dure senza far perdere alla voce presenza e attacco perché comunque la voce deve stare in primo piano io sono uno di quei fonici che pensa che il mix debba avere la voce e il rullante della batteria e indietro tutto il resto che è una visione un po classica e forse anche ottantiana non ottantiana necessariamente in senso di rock ma in senso di tutti i generi musicali però io sono sincero a me la musica piace così a me piace ascoltare sentire bene la voce e sentire il tempo sul due sul quattro nel pop è sempre così dal rullante sono le due cose che mi piace stiano più avanti quindi devono essere comunque compresse equalizzate trattate riverberate tanto poco con i predilei giusti eccetera eccetera in modo che stiano avanti questo è quello che nella musica pop normalmente si sente il rullante alla voce di solito sono i due strumenti più alti in termini di db e comunque di presenza percepita quindi questo tipo di operazione che ho fatto ripeto è quella più normale nel senso che ho attenuato le frequenze acute più forti ma sempre in modo da rendere la voce un pochettino più rendere la voce un pochettino più vellutata ma senza scurirla troppo perché il rischio di essere questo il secondo di essere è quello risolutivo questa è una tecnica che io sinceramente ho imparato vedendo mixare un fonico che si chiama billy decker non so forse qualche volta l'avevo già citato nei miei tutorial fra i fonici che mi piacciono di più forse quello che mi piace di più fra quelli che mixano in the box perché comunque onestamente per chi come me è un rocchettaro incallito i nomi grossi mixano quasi tutti su console anche se ultimamente le cose un po stanno cambiando ma il rock è una musica vecchia diciamo la verità e non sempre chi la fa ma quasi sempre chi la produce non sono persone vecchie perché è brutto da dire però insomma sono persone diciamo abbastanza in là con gli anni quindi hanno un certo tipo di abitudini un certo tipo di tool che utilizzano e quindi spesso mixano in analogico comunque ritornando a noi questa cosa che ho visto fare da billy decker da questo fonico che invece mixa pop rock mixa da dio e mixa solo full in the box lui utilizza molto spesso spengo questo lascio solo questo lui utilizza molto spesso un diesser che va a lavorare prendo questa frase che mi dà particolarmente dice never ever bring me down perdonate la mia pronuncia in inglese così la voce la sento perfettamente compatta col diesser acceso nel senso che quelle frequenze che mi sembra che escano un po troppo in quella zona che mi farebbero pensare caspita ci vorrebbe sarebbe bello avere un equalizzatore dinamico che intervenga solo lì ecco con il diesser puntato sulla frequenza in questo caso attorno ai due kilohertz che mi infastidisce di più mi danno non so un balance fra le vocali e le consonanti che secondo me è perfetto e questo tipo di operazione per meglio dire questo tipo di utilizzo del diesser sulla traccia vocale quindi non per controllare le s non per controllare le s bilanti eccetera 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 ma per comprimere come se fosse un multibanda di cui noi accendiamo una sola banda per comprimere la parte delle medio alte più fastidiosa quella parte che io dico poi non so se tecnicamente è giusto o sbagliato io dico che mi sembra che vada quasi in risonanza la capsula del microfono quando il cantante ci canta dentro quella sensazione che il suono fischi un po che sia un po appuntito che sia un po molesto il diesser secondo me in modo semplicissimo perché vedete che il diesser ha uno slider non c'è pochi altri parametri insomma non c'è molto da da spipolare per per settarlo bene e secondo me utilizzando un diesser che va a comprimere quella zona delle medio alte il suono si compatta ed equilibra in maniera perfetta sentite questo frammento senza diesser quella sensazione di quando mixate tenete il volume alto e sentite delle cose che vi danno fastidio e pensate aspetta fammi abbassare un attimo il volume che se no mi stanco le orecchie ecco è quello che io sento così tutte le volte che dice ever ever mi dà fastidio anche in cuffia quando faccio questa operazione qui invece tutto sentite di nuovo quindi con vedete gli equalizzatori lasciati direttamente spenti tanto non sono il focus di questo di questo tutorial spengo l'automazione di volume e diesser riascolto della traccia si sente proprio che dinamicamente infastidisce io la sento perfettamente compatta e perfettamente bilanciata ripeto a livello dinamico perché a livello timbrico io quello che ho cercato di fare far arretrare quella zona fastidiosa con il diesser puntato sui 2 kHz ma qui il problema è fondamentalmente dinamico quindi per riassumere e concludere ci sono casi e la musica elettronica secondo me è proprio un esempio perfetto perché succede molte volte in cui mixare non è più una cosa additiva nel senso di metto l'equalizzatore schiarisco scurisco metto il compressore piuttosto che o sistemo la dinamica ma è una cosa più volta alla restaurazione nel senso che capita di frequente anche nelle produzioni grosse che chi ha prodotto ha fatto delle cose che non doveva ha esagerato come in questo caso con un compressore quindi ha calcato troppo la mano sostanzialmente col processo sulla traccia quindi molte volte il compito dei fonici di mix è quello di tra virgolette rimediare gli errori che sono stati fatti prima della sede che se non avesse fatto quello che invece ha fatto io avrei messo i miei equalizzatori i miei compressori le mie solite cose e avrei dalla voce dry avrei portato la voce ad un balance dinamico che a me piaceva e quindi per me sarebbe stata finita in questo caso invece ho dovuto fare una sorta di operazione di restauro quindi io quello che vi raccomando è ovviamente l'utilizzo dell'automazione che io non mi metterei mai a fare un'operazione del genere in una traccia vocale se la traccia me la posso mixare io perché sinceramente se la traccia è ripresa non dico bene discretamente la dinamica non è stata massacrata da un compressore in tracking non ci si riduce a questi livelli non è necessario fare tutto questo mentre invece in questo caso purtroppo serve una cura drastica e quindi bisogna fare questo tipo di lavoro lungo tutta la traccia e questo chiaramente richiede del tempo ma va fatto l'altro tool fondamentale secondo me per fissare i problemi è il ds perché di fatto il ds è un compressore che mi permette di lavorare solo su un determinato range di frequenze quindi molto spesso la parte più fastidiosa delle voci è nelle medio alte i 2000 2002 2005 2008 quella zona quindi io con un ds in questo caso grazie a dio in un attimo vado a fissare la parte e riesco a compattare timbricamente cioè evito che su alcune sillabe su alcune parole la voce fili liscia mentre invece su altre si appuntisca e dia quella sensazione di fastidio di abbassa il volume in realtà non è alto il volume della traccia è alto solo il volume di una frequenza fastidiosa che mi fa arretrare questo vale ovviamente per le risonanze su tutti gli strumenti però concludendo l'utilizzo multiplo dei ds io una cosa che vi consiglio in generale funziona sempre bene ed in particolare quando avete dei problemi come in questo caso da fissare anche perché anche questo indurimento delle frequenze che io dicevo potrebbe essere causato da una scelta sbagliata del microfono in fase di tracking ma potrebbe essere anche causato da una scelta sbagliata del compressore che non solo è stato utilizzato in maniera troppo brutale ma magari non era quello che si sposava meglio con questa voce io se penso ad un compressore tipo il tube tech il cl1b io per quello colpo troppo poco troppo poco per quanto è bella la macchina per quello che l'ho usato comunque stento a credere che possa causare una roba del genere se utilizzate un compressore come l'LA2A che conosco benissimo se utilizzate un 1176 che conosco benissimo su tutti i compressori che ho in studio ecco se ne avete uno particolarmente chiaro adesso non voglio fare l'elenco delle marche però alcuni possono innescare questi problemi ma con altri è molto difficile con un LA2A è impossibile che si crei una roba del genere si possono creare altri problemi magari si scurrisce troppo la traccia in alto però ecco come dire potrebbero essere problemi dovuti alla scelta sbagliata del compressore ed in quel caso soprattutto in questo quindi quando le medie esagerano troppo perché tenete presente che poi un eccesso di frequenze in quella zona sui 2kHz io praticamente ho tutto tutte le tracce ci sono lì penso soprattutto tutte le chitarre e tutte le tastiere non voglio neanche parlare di basso e batteria ma tutta la musica armonica tutte le chitarre e tutte le tastiere lì ci sono è come se ci sono quindi questo fastidio che io percepisco guidato dalla traccia vocale mi rende poi similante è come se mi fastidisse l'ascolto di tutta la parte musicale quindi secondo me è molto importante da fissare io concludo dicendovi solo una cosa sembrano piccole le operazioni ovviamente vale sempre il discorso che dipende dove state ascoltando e dove state vedendo questo tutorial sembrano piccole cose ma io vi posso garantire che il classico utilizzo del di esser ovviamente per levare la parte più brillante e vetrosa della voce ma questo di esser che su questa traccia vocale io ho puntato a 2kHz secondo me io non so in termini di quantità quanto possa sembrarvi grosso o piccolo questo intervento per i miei parametri è grossi fa una differenza enorme in mix perché mi dà un relax in ascolto alla traccia vocale che mi fa suonare meglio tutta la canzone quindi soprattutto quando si parla di voce io chi mi conosce sa che ci sono tracce dove busto più 15 db senza nessun problema non sono uno che equalizza o comprime col punto e la virgola in molti casi ma in altri sì e la voce secondo me è una di quelle tracce in cui anche le piccole operazioni una piccola operazione qua una piccola operazione la messa insieme secondo me fanno la differenza quindi spero con questo tutorial di avervi dato un'idea di come si possono utilizzare i plug e si può procedere per un processing che non è proprio quello tradizionale del trattamento vocale ma è una sorta di restauro di quello che è stato fatto non molto bene in produzione e soprattutto quando come nel caso della musica elettronica vi trovate a lavorare con tracce che sono molto spesso pretrattate essere un po ferrati in questo senso vi vi evita sostanzialmente di procedere come fareste con una voce normale quindi andreste anziché anziché risolvere andreste da qui nel problema perché mettereste compressori su compressori equalizzatori su equalizzatori eccetera 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 quindi spero di avervi dato una prospettiva soprattutto per quelli di voi ovviamente che non trattano questo genere perché chi mi guarda e mixa musica elettronica è sicuramente molto più ferrato bravo ed esperto di me e conoscerà già tutte queste cose ovviamente questo tutorial è rivolto a chi normalmente non tratta queste cose e vuole avere un'infarinatura o comunque una base di partenza da cui iniziale il processing in questo determinato ambito comunque io vi consiglio io personalmente lo faccio molto spesso contenere le medio alte i due killer 2 5 eccetera eccetera col di essere una cosa che su moltissime voci porta molto bene chiudo questa volta chiudo davvero con un ultimo consiglio per i metallari per i fonici che mixano metal e che si trovano voci registrate con sure sm7 quindi con un effetto prossimità mostruoso molto spesso questa operazione qua aiuta molto anche lì anche se la voce in quel caso non è processata ma è solo voce microfono e magari un pizzico di compressione in tracking anche lì funziona molto bene quindi sperimentatelo anche nel processing tradizionale questa operazione del di esser sui due killer perché funziona veramente bene secondo me che dire buon mix ci vediamo al mese prossimo ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti